BASI! No, 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 no Spingi un po' più dei gatti quando devi in sinistra. Spingi un po' più di spingi un po' più di spingi. 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 Sì, è un po' di martini. l'hai portato sul destro l'hai portato terza tutta, terza camminata ma dove vai tu mani? terza camminata e si vuole un giro a prendere il giro a prendere il giro a prendere non lo teni in blu non lo teni in blu si si vedi il pollo gu centro nei le cor Grazie 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 Stop Sposta la laterale Sposta la laterale Jack Sposta la laterale Sposta la laterale Sposta la laterale Bax Brava No Whether Sposta la laterale Passiamo Sc Einsatz Stai, stai, stai Stai, stai 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 Sì, vieni, vieni, vieni Stop! guarda l'angolo stai gioco il silenzio gli angoli stai rimani con la guarda da lì decido ce si te Grazie. 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 Allora vai, non ti ritornai, non hai spinto, continua a spingere con le gambe. Stai lì, stai lì, non ti ritornai, stai lì, vieni, stai lì, lavora sotto, lavora sotto, vai, non hai spinto, vai. Buongiorno a tutti. bravo, non ti distanziare qua la fine, da là da là, a la fine, bravo, più giù o più di te, più di te, più di me più di te, più di te, più di te dritto, dritto, schiri ogni ancora Grazie. 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 Che vediamo. Segui. La parte. Bene. Deciso, eh? Deciso. Vai, vai, vai. Non lo faccio, non lo faccio. Vai, venti secondi. Venti secondi. Venti secondi. Venti secondi. Venti a metto il tempo. Venti a metto il tempo. Venti a metto il tempo. Venti. 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 Guarda, oggi ottima seduta di sparing per Fazzino con Giacomo Micheli. Pugile molto esperto. Con tanti match da direttante. E esperienza in America. Quindi stiamo a parlare di un ottimo pugile. Un bel ritmo. Abbiamo fatto. Sevi preso intenso. E magari Giacomo doveva lavorare un po' sul movimento delle gambe. L'ho visto un po' troppo statico in alcuni momenti. Però, ottimo sparing. calcolando che Giacomo è anche leggermente più leggero. Quindi, va bene così. Oggi è andata benissimo. Sono contento dello sparing e della prestazione. grande vale. Bello sparing oggi. Sono soddisfatto. Ho grandi lavori alle spalle della settimana scorsa, di ieri. Quindi ho le gambe un po' appesantite e anche le braccia. Però, del resto, penso che sia andata bene. Sono state seri presentenze. C'è stato un bel ritmo. Sto lavorando su lavori specifici che vanno. Sinceramente vanno. Sono soddisfatto. Stiamo preparando molte cose con il mio allenatore Silvano. E dai. Il 25 giugno, ragazzi, combatta a Roma. Sarà il mio debutto da pro. Quindi venitevi a sostenere. Perché non so poi quando mi rivedrete, sinceramente. Visto che il primo luglio rivolo negli Stati Uniti. Quindi venite e dai.